Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro Tg di oggi che apriamo con la cronaca con un incendio che si è sviluppato nella notte in un'azienda di San Giorgio di Nogaro, la Nunchi Steel, sprigionando una nube di zolfo che ha intossicato un gruppo di operai che si trovavano al lavoro nella stessa azienda e soprattutto nel vicino impianto Marcegaglia. Una ventina di persone sono state soccorse e controllate sul posto dai sanitari del 118, sette sono state accompagnate in ospedale, tre a Palmanova, le altre a La Tisana e Monfalcone. Il rogo si è sprigionato intorno alla mezzanotte nella prima azienda, la Nunchi Steel, dove erano in corso alcune lavorazioni. I fumi dell'incendio si sono poi propagati anche nell'azienda adiacente, l'impianto Marcegaglia, dove si trovavano al lavoro altre persone impegnate nel turno notturno. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto con personale e mezzi da Udine, Cervignano del Friuli e Codroipo. I vigili hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area. Incidente stradale nella notte sulla strada che da San Vito al Tagliamento porta a Bannia di Fiume Veneto. Un tir è uscito di strada da solo. L'autista è fortunatamente rimasto illeso, ma le operazioni di recupero del mezzo sono state particolarmente complesse. Il camion frigo è andato completamente nel fosso che costeggia la strada. I vigili del fuoco di San Vito, supportati dall'autogru proveniente dalle sedi di Pordenone, dopo essersi sincerati delle condizioni dell'autista, hanno posizionato dei panni assorbenti per evitare la propagazione degli oli fuoriusciti dal mezzo incidentato. Dopo che Polizia Stradale e Carabinieri hanno chiuso temporaneamente la strada e valutata la complessa situazione, è stato deciso di contattare un ulteriore autogru che ha consentito il recupero e la messa in carreggiata dell'intero mezzo. Le operazioni si sono concluse alle ore 4.30 circa. Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri tra le 18.30 e le 19.30 nella canonica di Tarvisio. I gnoti, approfittando dell'assenza del parroco impegnato nella messa serale nella parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Piazza Unità d'Italia, hanno forzato una porta posteriore dell'abitazione delle sacerdote. Sono entrati ed hanno rovistato nelle stanze, mettendo camera e studio a soquadro. La pattuglia della stazione di Pontebba dei Carabinieri, intervenuta dopo le richieste delle sacerdote, ha eseguito i sopralluogo e i rilievi. Dallo studio è stata rubata la somma di circa 2.000 euro in contanti. Le indagini proseguiranno a cura della stazione dei Carabinieri di Tarvisio e del nucleo operativo e radiomobile. E si è parlato di sicurezza questa mattina in Comune a Udine. L'assessore competente Ciani ha convocato la stampa per fare il punto sul sistema di videosorveglianza e più in generale sugli interventi in materia di sicurezza. Vedo già collegata proprio da Palazzo d'Aronco la nostra Monica Nardini. Qui cedo subito la linea. Buongiorno Monica. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai nostri telespettatori. Si è proprio da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione degli ultimi provvedimenti, come accennavi in materia di sicurezza predisposti dalla Comune. L'assessore Ciani ha illustrato un'ordinanza contingente e urgente che prevede da domani e per 60 giorni il divieto di consumo di bevande alcoliche e di alimenti nelle aree pubbliche della zona di Borgo Stazione. Questo a seguito, come già avvenuto anche in passato, di numerose segnalazioni di abitanti rispetto a episodi di degrado, assembramenti, schiamazzi, anche risse, dunque presenza di persone anche ubriache, spesso ubriache appunto in diverse vie del quartiere del Magnoli e dell'area del Borgo Stazione. Noi sentiamo direttamente dalle parole dell'assessore Ciani cosa prevede questa ordinanza. Anticipiamo già che sono previste sanzioni amministrative per i trasgressori da 100 anche a 600 euro. Oggi adottiamo un'importante ordinanza che va a combattere il fenomeno di assembramenti di persone in zona della stazione e soprattutto persone straniere che in queste settimane, in questi mesi purtroppo molto spesso fanno appunto degli assembramenti, bevono bevande alcoliche e disturbano la quiete pubblica e la normale vivibilità di questa zona della città. Quindi vetiamo nella zona della stazione, in alcune vie limitrofe, il consumo di bevande alcoliche, la detenzione e fini dell'imbiato consumo di bevande alcoliche e l'abbandono di bottiglie, di rifiuti di qualsiasi tipo in questa zona della città. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte dei residenti, purtroppo è un fenomeno che va assolutamente colpito. Abbiamo lavorato di concerto con le forze dell'ordine, in particolare con la questura che ci ha comunicato il fatto che questo fenomeno sia un fenomeno preoccupante, che certamente dà un senso di insicurezza ai cittadini e quindi oggi adottiamo questa ordinanza, un'ordinanza che avrà un termine per legge, quindi è un'ordinanza contingibile e urgente che ha durata di 60 giorni. Nel corso però di questi due mesi approveremo in Consiglio Comunale una norma che consenta poi al Sindaco di adottare ordinanze di questo tipo senza requisito della contingibilità e dell'urgenza e quindi potremo adottare provvedimenti di questo tipo o comunque analoghi anche in futuro. Cosa prevedono le sanzioni in questi due mesi? In questi due mesi la sanzione va da 100 a 600 euro, oltre che il sequestro della merce, questa è in particolare una sanzione che può colpire chi viola questa ordinanza. Ovviamente la nostra intenzione non è di colpire chi desidera comprare una bevanda per consumarla a casa, per il pranzo o per la cena, tutt'altro. È per evitare questi fenomeni di assembramenti che purtroppo colpiscono alcune zone di Udine. Penso anche al Parco Martire delle Foibe. Tanti cittadini si stanno lamentando di una situazione delicata che riguarda Via Lungheria, Parco Martire delle Foibe, oltre che la classica zona di Borgostazione. Riteniamo che questa sia una misura che sarà molto efficace. Ovviamente ho chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli, di far rispettare quest'ordinanza per tutti questi 60 giorni. Siamo già d'accordo anche con le forze dell'ordine che questa ordinanza venga fatta rispettare e che ci sia un aumento dei controlli, in questo senso, anche da parte delle altre forze di Polizia. Il comandante della Polizia Locale, Eros del Longo, che a sua volta ha confermato il potenziamento dei controlli nell'area e ha commentato così la situazione. Dopo la sua intervista vi ridò la linea. Alcune delle vie più critiche rispetto alle segnalazioni ricevute? Sicuramente nella zona stazione, nella via centrale, via Roma e nella via Limitrofa-Leopardi abbiamo le segnalazioni che principalmente hanno interessato tutti gli interventi che sono stati portati a termine da noi, dalla Polizia di Stato e dalle altre forze di Polizia. Noi con questo provvedimento cerchiamo di riportare condizioni di vivibilità in quelle aree, in quelle zone, a favore dei cittadini, perché non è tollerabile che persone ubriache siano presenti tutto il giorno in queste vie e creino problemi turbative, risse, che poi comportano sempre interventi in maniera sicuramente repressiva nei confronti di queste persone. Ci sono stati già diversi interventi in passato, insomma una problematica che si ripresenta ciclicamente, periodicamente. Che cosa si spera di ottenere dunque con questa ordinanza rispetto a quanto finora predisposto? Ma a tutta la volta che si adottano provvedimenti volti ad elevare i livelli di sicurezza è chiaro che l'obiettivo finale è quello di eliminare tutte queste situazioni che hanno creato e che continuano a creare turbativa, sia per la vivibilità del quartiere sia anche per i cittadini stessi che passeggiano in quelle vie. Quindi anche in questi due mesi con le sanzioni che intendete applicare sperate che ci sia dunque una maggior presa di coscienza rispetto a questo consumo di alcolici, non solo? Noi sicuramente proviamo ad attuare tutte le misure che l'ordinamento ci consente di adottare per ridurre e eliminare questi fenomeni. Fra due mesi valuteremo i risultati. Andiamo avanti parlando adesso di formazione. Un salto di qualità con il potenziamento del ventaglio dell'offerta di stage, tirocini e posti di lavoro per alzare l'asticella della responsabilizzazione e dell'efficacia del Fondo Sociale Europeo. E questo è l'obiettivo della regione in vista della nuova programmazione, se ne è parlato a Trieste. Sentiamo le parole dell'assessore regionale Alessia Rosolenne. Il Friuli Venezia Giulia sta già anticipando i temi della nuova programmazione europea con quest'ultima annualità di utilizzo del Fondo Sociale Europeo, avendo profondamente modificato quello che è l'approccio al sistema formativo. È un atto di coraggio, perché sarebbe stato semplice continuare a utilizzare People così come è stato concepito in questi anni, invece noi vogliamo specializzarlo nella formazione mirata a quelli che sono i bisogni del nostro territorio. per garantire che i nostri percorsi formativi e i nostri percorsi di accompagnamento e di educazione in senso lato siano rispondenti a quelle che sono le necessità di un'economia che sta cambiando profondamente e che ha bisogno di nuovi metodi di approccio. Aeroporto Militare di Rivolto, presentata ieri sera la formazione acrobatica per il nuovo anno delle frecce tricolori. Il 2020 sarà un anno particolarmente importante per la PAN che festeggerà la sessantesima stagione acrobatica. Tra conferme come quelle del capo formazione e del solista, rispettivamente i maggiori Stefano Witt e Massimiliano Salvatore, e cambi di posizione, sono stati annunciati anche due esordi. Uno riguarda il pilota friulano Oscar Del Do, classe 1987. Sentiamo le parole del comandante delle frecce tricolori, Gaetano Farina, e del pilota friulano esordiente. La novità innanzitutto sono i due nuovi piloti che entreranno a far parte della formazione acrobatica 2020. Ci sono dei cambi di posizione all'interno della formazione, ma non solo quello. Oggi scopriremo quelle che sono le novità anche della stagione acrobatica. La stagione acrobatica è che partirà proprio con un evento importante il 24 maggio, con la partenza di una tappa del Giro d'Italia, prima volta che accade in una base militare. Un evento importantissimo, presenteremo in via ufficiale anche l'opuscolo, che rappresenterà le due tappe friulane. Quella sarà la volata, usiamo un termine ciclistico, che ci porterà fino all'evento importante, più importante per noi, e il sessantesimo anniversario delle frecce tricolori, che festeggeremo qui a Rivolto il 19-20 settembre 2020. Una grande manifestazione aperta a tutti i grandi appassionati di questa eccellenza italiana. Noi ovviamente speriamo in un flusso di pubblico massimo, cerchiamo di rendere partecipi tutti gli italiani, ma non solo. Chi vorrà raggiungerci, perché ci saranno non solo le frecce tricolori, non ci saranno solo velivoli militari dell'aeronautica militare, ci saranno velivoli anche delle altre pattuglie estere, quindi sarà un'occasione per ritrovare il volo acrobatico qui a Rivolto. Rispetto ai nuovi arrivi? Abbiamo il capitano Oscar Del Do, che entrerà nella nuova posizione di Poni 7, il capitano Simone Fanfarillo, che sarà il nuovo Poni 9 della formazione. Uno è Friulano, di Martignacco, il capitano Del Do, e il capitano Fanfarillo invece è Laziale. Un esordio che corona anni di sacrifici? Sì, anni di sacrifici che iniziano ovviamente entrando in aeronautica militare, perché noi stiamo qui a rappresentare tutti i nostri colleghi dell'aeronautica tutta, e il mio percorso nello specifico è passato tramite l'Accademia, quindi la formazione universitaria che dà anche l'Accademia di Pozzuoli, per poi diventare pilota con il velivolo MX Aistrana, al 132esimo gruppo, e avere la fortuna di venire qui a rappresentare la nostra forza armata, l'aeronautica, con le frecce tricolori da quest'anno. Una doppia emozione vivendo il fatto di essere un pilota del frecce tricolori proprio qua nel suo Friul. Sì, sicuramente essere a casa è magari un valore aggiunto, è sicuramente un sogno che mi ha aiutato, mi ha spinto a entrare in aeronautica. Questo, coronarlo, è sicuramente la ciliegina sulla torta. E la partenza dalla base militare della prima delle due tappe friulane del Giro d'Italia, la rivolto Piancavallo, in programma il 24 maggio del prossimo anno, rappresenta un unicum nella storia della Corsa Rosa. Sentiamo l'organizzatore Enzo Cainero. Sarà la prima volta che una tappa del Giro d'Italia partirà da una base militare, il 24 maggio, dunque, qui da rivolto, la tappa rivolto Piancavallo. Sì, la prima volta di un grande giro, quindi né Tour, né Vuelta, né Giro d'Italia, mai avevano visto la partenza da una base aerea, che è un'operazione un po' complicata, ma le cose difficili devono tentare di farle e di farle bene. Ecco, noi qui partiremo il 24 maggio, ci stiamo lavorando da un anno e mezzo e adesso... Che punto siamo? Ma bene, ma è che ogni giorno ne nasce una e quindi bisogna affrontarla e cercare di risolverla. Ma lo spirito di collaborazione è altissimo sia col comandante della base che col comandante delle frecce tricolori, quindi obiettivamente si lavora, si lavora bene. Però due giorni dopo avremo la tappa degli alpini a Muris di Ragogna, perché lo spirito alpino c'è sempre. Andiamo a Perteole adesso. Dopo 30 anni torna visibile il tesoro di Perteole, le monete d'argento d'epoca patriarcale che sono state rinvenute nella chiesa di Perteole negli anni scorsi. Poi erano state affidate al Museo di Cividale. Tutti questi reperti erano stati rinvenuti nel 1989 nella chiesetta dei Santi Andrea e Anna a Perteole. A seguito dei lavori di recupero della Pieve, durante un sondaggio sotto il pavimento, furono scoperti, custoditi in una pentola di terracotta, a 681 denari del patrimonio Arca di Aquileia, Bertrando di Andex, 480 dei Vescovi di Trieste, Leonardo e Volrico, e tre del Duca di Carinzia, Bernardo II di Spanheim. Tutte queste monete erano state affidate appunto in custodia al Museo di Cividale. Adesso ritornano a Perteole per essere esposte in questa mostra dedicata alle monete d'argento d'epoca patriarcale. Chiudiamo questa pagina dedicata alla cultura per aprire quella sportiva. E allora andiamo subito alla Dacia Arena, dove vedo pronto Jacopo Romeo. Jacopo, buongiorno, a te la linea. Buongiorno, buongiorno Angela, un saluto a te, un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti qui alla Dacia Arena. Mister Luca Gotti, che a mezzogiorno parlerà in conferenza stampa, mentre la squadra è arrivata già qui allo stadio per il pranzo dal ritiro, perché da ieri, come vi abbiamo già spiegato e raccontato, tutta la truppa di Mister Gotti ha anticipato in un giorno il ritiro pre-gara, vista anche l'importanza della partita. Un modo per stare insieme e per arrivare con la concentrazione al top alla sfida di domani contro il Cagliari, che sarà assolutamente da vincere. Poche alternative all'infuori dei tre punti, per risollevarsi in una classifica complicata, per regalarsi una tare più serena, per arrivare alla sosta con più respiro in graduatoria. Riguardo al capitolo dei presenti e degli assenti, già da due giorni abbiamo detto che Kenseme e Mato Iaialo sono entrambi a disposizione. Vedremo, ce lo dirà lui, se possono partire titolari, ma almeno uno dei due, la sensazione è che scenderà in campo. Possibile che sia Sema, visto anche l'unicità delle sue caratteristiche sulla fascia sinistra. Allenamento di rifinitura fissato per le ore 15, sarà lì che Gotti proverà tutto lo spartivo tattico definitivo in vista del match contro il Cagliari. Gara tosta e il Cagliari ha perso con la Lazio, anche in maniera pienamente meritata, è una squadra forte, ma l'Udinese deve pensare di avere le armi e le ha tutte per cogliere tre punti importantissimi in vista della fine del nuovo anno. Poi, l'ultima indicazione di formazioni, Gotti riscioglierà soltanto dopo la rifinitura, come sempre gli accade, e in avanti vedremo se ci sarà nuovamente spazio per Naccio Pussetto, che controlla Juventus. È tornato al gol. A te Angela. Grazie, grazie allora Jacopo Romeo, anche per questi aggiornamenti. Noi siamo in chiusura, e allora vi lascio alle previsioni del tempo, ancora come sempre, dell'Osmer Arpa. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà così, piuttosto grigio e umido, poi nel pomeriggio, a metà pomeriggio, comincerà ad arrivare da ovest un fronte atlantico abbastanza deciso, che fino alla mattinata di domani interesserà la regione e porterà piogge abbondanti su pianura e costa, intense in montagna, localmente molto intense, sulla fascia prealpina. Nel corso del pomeriggio avremo scirocco moderato sulla costa, vento da sud sostenuto in montagna, vento che diventerà via via più forte nel corso della notte, fino a domani mattina, quando avremo temporaneamente anche vento forte da sud o da sud est e forse anche la possibilità di acqua alta o di mareggiate sulle coste più esposte della nostra regione. Dal pomeriggio di domani il tempo migliorerà, il fronte si allontanerà verso est, quindi avremo delle schierite sulle zone della pianura, della costa in particolare sulle zone più occidentali, schierite che ci interesseranno fino alla serata di domani e anche se le schierite porteranno forse qualche di nuovo qualche banco di nebbia sulla bassa pianura. Domenica mattina ci sveglieremo probabilmente di nuovo con il brutto tempo, una depressione si avvicina proprio sulle nostre coste, porterà cielo coperto, piogge più intense sulla zona di costa, più moderate invece in montagna, dove l'arrivo di aria un po' più fredda porterà neve a cote più basse rispetto a questi ultimi due giorni. Domenica possiamo aspettarci in montagna neve al di sopra dei 700-800 metri sulle Alpi, al di sopra dei 1200-1400 invece sulla fascia prealpina. Domenica mattina di nuovo con l'arrivo della depressione e quindi con il vento da est o sud-est avremo di nuovo la possibilità all'alba di acqua alto, di mareggiata sulle coste più esposte. Poi nel corso della mattinata e nel pomeriggio giungerà aria un po' più secca da nord, avremo forse vento sostenuto da nord prima in montagna poi in pianura e infine sulla costa nel pomeriggio e questo vento porterà un miglioramento del tempo con schierite che saranno via via più ampie nel corso del pomeriggio della domenica. Da lunedì e poi probabilmente anche martedì e giorni successivi tempo probabilmente migliore e più asciutto.